La ci scrive Gian Vito, grande, io ho solo 11 anni, oggi io in pulma casualmente ho ascoltato Marco Carta, cavolo pino, ma io credo che oltre al mondo anche la musica sia fottuta, meno male che ci sono persone come te, come me, come noi, che si ricordano delle Zeppelin, dei Saxon e degli Iron Maiden. Ultima cosa, volevo chiederti cosa ne pensi dell'album del Trooper, degli Iron Maiden e dell'ultimo album dei Megadeth. 24 Minutes, per me sono molto belli tutti e due, saluti Gian Vito. Gian Vito, quanti anni hai? Sono 11. Grande Gian Vito, grande, 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 stai ascoltando la grande musica, comunque non c'è bisogno per ascoltare Marco Carta, non hai bisogno di andare su un pulma, ce l'hai intercesso a casa tua la Carta, non ti preoccupare. Check.